Non lo so, di più? Di più, eh? Pronti via? Anche che abbiamo 45 minuti. Buonasera. Scusateci, mi spiace molto per le persone che sono in piedi e che sono rimaste fuori. Scusate, purtroppo va così. Allora, noi cerchiamo di essere più rapidi possibili per iniziare. Io parlerò almeno possibile perché qui abbiamo due persone, anzi tre, però senza nulla togliere. Alla collega Stefania, diciamo che c'è Fausto Cardella, che più o meno tutti conoscete, ma soprattutto è stato quello che ha, diciamo, a lui va il merito di aver istituito il processo che poi è passato, il nome era il processo Pecorelli, ma in realtà ha portato sul banco e gli imputati l'ex premier, l'ex pluriministro e via dicendo Giulio Andreotti. Prima è stato assolto, poi condannato, poi la Cassazione è intervenuta, annullato tutto, però, diciamo, tutto l'impianto accusatorio e la fase istruttoria è stata messa in piedi ormai più di 25 anni fa, giusto, se non ricordo male, da questo signore qui, che a vederlo così sembra una persona normale, però invece a quanto pare ha dei extrapoteri. Dall'altra parte del tavolo c'è appunto Turone, che qui è in veste come autore del libro che poi trovate sul banchetto qui fuori, ma anche lui è stato uno dei protagonisti della storia giudiziaria italiana e soprattutto uno di quelli che ha cercato di svelare quelli che in parte noi continuiamo a definire misteri, ma che secondo me sono soltanto segreti di Stato. C'è qualcuno che li conosce, conosce benissimo cosa è successo, quali sono i moventi, perché in 30-40 anni di storia italiana ci sono state delle stragi, però quel qualcuno fa di tutto per tenerli segreti. Lui, ad esempio, il suo merito, fra le altre cose, è quello di aver avuto a che fare con la loggia massonica segreta P2, propaganda 2 di Liciogelli. Lui ha disposto i sequestri a Villavanda, se non ricordo male, fra le altre cose, Castiglion Fibocchi Villavanda, e trovò appunto la famosissima lista degli iscritti a P2, tra cui c'era il nostro amato ex premier Silvio Berlusconi, tra gli altri. E poi Stefania Limiti, che immagino sia superfluo anche lei, presentare, comunque è una collega, è una delle maggiori esperte di quegli anni lì, soprattutto per quello che riguarda le ricerche e le indagini su le inchieste inerenti al caso Moro, quindi sequestro, detenzione e omicidio. Ha scritto numerosi libri, tutti libri di inchiesta, oltre che approfonditi, puntualissimi, di quei libri precisi che non mandano mai, che non lasciano mai lo spazio ai retroscena o alle cose inventate, ma nei quali vengono riportate solo le cose concrete e i riscontri fattuali. Questa era una breve introduzione, io inizierei a disturbare la persona umana che sembra un'extraterrestre alla mia sinistra, che è Fausto Cardella, proprio partendo dal processo Pecorelli, perché comunque sono trascorsi 25 anni, perché il processo Pecorelli è stata, c'è una mole di pagine, se non ricordo male, di 800.000 pagine di atti per cercare il movente dell'omicidio. Pecorelli era un giornalista e era un giornalista che oggi definiremo di inchiesta, era un giornalista bravo, serio, aveva le sue fonti, sapeva utilizzare le sue fonti e purtroppo erano talmente importanti e elevate e primarie queste fonti che è finito in un gioco, secondo me, più grande di lui, in un gioco di vendette tra pezzi dello Stato che lui aveva come fonti e questi pezzi dello Stato hanno utilizzato lui per farsi la guerra, fino a quando è stato strumentale e utile a loro, questa è la mia opinione però. E poi è morto, ancora oggi non sappiamo chi l'ha ucciso, la procura, appunto Cardella in particolar modo, hanno cercato di individuare il movente, ma individuare il movente dell'omicidio Pecorelli in quello, negli argomenti di cui si occupava, è stato un viaggio infinito per 30 anni di storia della Repubblica italiana. Quindi volevo chiedere a Cardella quello che rimane oggi a distanza di 25 anni, di quel processo lì. Grazie. Questa tua opinione che pezzi dello Stato possano essersi fatti, la guerra e aver utilizzato Carmi e Pecorelli, è un'opinione che mi sembra molto più fondata dell'altra che hai espresso, secondo la quale io sarei un tipo normale, quella invece non mi sento assolutamente di doverla smentire. Che cosa resta di questo processo? Vorrei dire intanto una cosa, che cos'è il processo? Il processo è uno strumento per verificare se si devono dare anni di carcere o no. Alla fine è soltanto questo, cioè la verifica di un'ipotesi accusatoria che si può concludere con un ergastolo, 25 anni, 10 anni, i solito i processi vanno su queste cose, oppure no. Però per dare 25 anni, 24 quanti sono stati dati in secondo grado a due degli imputati del processo Pecorelli, o l'ergastolo, come era stato chiesto dai pubblici ministeri con me, ha condiviso questa iniziativa il collega Sandro Carnevale, attuale procuratore di Spoleto. Lo Stato vuole che ci sia un livello probatorio alto, rassicurante. Quando sentite parlare di verità processuale, e spesso viene contrapposto alla verità reale, quasi che nei processi si cercasse una verità diversa, quale che essa sia una verità convenzionale, è una cosa sbagliata, perché la verità processuale esiste ed è la verità che viene accertata secondo determinate regole, quelle regole che il legislatore ha fissato perché vuole essere tranquillo quando deve dare, vergastolo, 25 anni o così via. È chiaro? Quindi che cosa vuol dire questo? Che nel processo c'è uno standard di prova che è altissimo, dipende dai tempi, dai momenti, dalle cose, comunque c'è fissato queste regole. Vi faccio un esempio, ci sono dei testimoni, per esempio, che ci sono verificati anche in questi ultimi casi giudiziari che la cronaca ci ha ricordato in continuazione, che al processo si avvalgono della facoltà di non rispondere, perché sono congiunti o perché ne hanno dei peri rapporti, poi vanno a porta a porta oppure a qualche altra trasmissione e invece raccontano la loro verità. Che cosa vuol dire questo? È illegito, è illegale? No, è perfettamente naturale. Nel processo quelle dichiarazioni, voglio dire, non sono utilizzabili, quindi il giudice non ne può tenere conto. Quindi la verità processuale è quella che non tiene conto di quelle dichiarazioni che per il giudice sono tali da non poter essere utilizzate, per il legislatore. Invece, in altra livello, quando non devi dare anni di carcere, devi fare storia, devi raccontare un patto, devi fare spettacolo, quelle dichiarazioni sono utili. Perché vi faccio questo esempio? per dire che quale sia stato l'esito del processo nel quale si è stabilito che non si può dare l'ergastolo a quegli imputati, ed è una decisione non solo rispettabilissima ma probabilmente anche giusta, però c'è una massa di conoscenze, di dati che può essere utilizzata da tutti, dallo storico, per esempio Giuliano Turone l'ha utilizzata molto bene questa massa, questo insieme di dati che emergevano nel processo Pecorelli e nel suo libro che vedete qua, ha ricostruito da far suo, perché c'ha anche una penna che è elegante e capace per raccontare in questo capitolo di Pecorelli, racconta bene quello che lui ha tratto da questo processo. Allora noi nel poco tempo che abbiamo, perché vorrei sentire anch'io gli altri, che cosa c'è rimasto di questo processo? Che cosa possiamo dire noi? Al di là dell'esito processuale che dipende da quelle cosette che vi ho detto prima, che cosa è rimasto? Alcuni punti certi. Il primo punto certo è che Carmine Pecorelli è stato ucciso dalla criminalità organizzata, che ha un nome, Banda della Magliana. Stiamo parlando di una efferata compagine criminale che operava a Roma negli anni 70, 80 e 90, perché lo possiamo dire con certezza? Non possiamo dire chi della Banda della Magliana ha materialmente premuto il grilletto della pistola, ma possiamo dire che è sicuramente un aderente alla Banda della Magliana perché le pallottole che hanno ucciso Carmine Pecorelli provengono da un deposito che si trovava, io capisco che adesso direte, certo che ha detto che sei normale, che non sei normale, perché sapete dove si trovava questo deposito di armi della Banda della Magliana? Al Ministero della Sanità, negli scantinati del Ministero della Sanità. Vabbè, se per voi è normale vuol dire che sono io la normale. Quindi questo lo possiamo dire con certezza e questo ne possiamo trarre anche una conseguenza, cioè non è stato un fatto passionale, non è stato un fatto da ricattatore, non è stato il ricattatore che è stato ucciso, a parte che il ricattatore non era, non c'era nessuna prova. Quindi è un'organizzazione criminale che uccide senza rivendicare un giornalista, perché? Ecco, questo non lo so. Però sono state fatte delle ipotesi. Che ci sono? Queste ipotesi non hanno trovato un sufficiente livello di conferma per dare ergasto ed è giustissimo. Però le dichiarazioni di Buscetta che collega Pecorelli a la vicenda del generale della Chiesa è una dichiarazione che c'è e che ha avuto dei suoi elementi di riscontro nel processo. Che attenzione sono utilizzabili come li ha utilizzati benissimo Giuliano e poi non so se magari su questo punto si potrà dire. Sono utilizzabili da chi vuole fare storia. Perché poi alla fine in questo processo quello che c'è di interessante oggi è che per una serie di motivi, perché si doveva indagare sulle piste alternative, perché si doveva indagare su questo, è finito che c'è dentro 400.000 pagine e altrettante di documenti originali che sono tutti all'archivio di Stato oggi, a disposizione degli storici di colui che abbia voglia di fare una cosa del genere. Quindi l'ipotesi di Moro, perché poi Pecorelli nell'ultimo anno, saluto qui Rosita Pecorelli che è la sorella che sta combattendo la sua battaglia assieme ai suoi familiari, Pecorelli di fatto si è occupato soltanto o in prevalenza del sequestro Moro, anticipando degli sviluppi di quella tragica vicenda. Il generale Amen, Chichiarelli, se qui Walter Biscotti che stava dall'altra parte, però poi vedete alla fine ci ritroviamo tutti a cercare una certa verità e nello stesso tempo ci ritroviamo tutti appassionati da questa curiosità che oggi è solo una curiosità storica, almeno. E poi c'è, quindi c'è questa ipotesi di movente che è intrigante e che ha un qualche suo fondamento, penso. Poi c'è un altro aspetto, c'è stata la damnazio memorie. Pecorelli per 25 e più anni è stato sconosciuto, è stato anzi volutamente ignorato, marchiato come ricattatore. E già questo qualche cosa forse può voler dire, ma io sono un vecchio pubblico ministero ormai un po' incallito e quindi sono sospetto un po' troppo. Pecorelli se non ci fosse stata oggi questa pubblicistica, sono stati scritti dei libri, se non ci fosse stata la volontà di Rosita Pecorelli e dei suoi familiari, se non ci fosse stato anche il festival del giornalismo di Perugia, diciamolo e ringraziamolo, Pecorelli sarebbe ancora confinato a quella immagine stereotipata del ricattatore, dell'uomo che, boh, meglio non parlarne, ma perché meglio non parlarne? È stato ucciso dalla criminalità organizzata come tanti altri giornalisti e come tanti magistrati, 28, dei quali ci ricordiamo. E quindi questo è quello che a noi resta in pillole, perché poi potremmo parlare molto di più, se avete voglia ci vediamo dopo, ma qui il tempo è molto limitato. Questo è quello che resta in pillole di questo processo e insomma ce n'è. Grazie. Grazie. Gli spunti sono tanti, anche perché in realtà Pecorelli appunto si era occupato nella sua rivista OP di tantissimi argomenti che erano quelli più rilevanti all'epoca e soprattutto aveva pubblicato delle notizie vere. È vero che nell'ultimo anno si era concentrato sul sequestro Moro, ma non solo, non si era limitato a questo. Lui ha pubblicato per primo lettere che Moro mandava ai familiari, ma che non erano tra quelle che venivano divulgate alla BR per l'opinione pubblica, quindi per farle finire sulla stampa. Lui aveva un canale privilegiato che molti hanno sostenuto, ritenuto essere generale dalla Chiesa. Lui ha pubblicato su OP stralci del memoriale Moro, ma stralci del memoriale Moro non quelli poi trovati nella prigione del popolo brigatista, ma quelli trovati 15 anni dopo a Milano. Lui li aveva già, tant'è che appunto Fausto ha citato l'archivio di Stato, l'archivio di Stato di Perugia sono costruiti tutti gli atti inerenti al fascicolo Pecorelli, processo Pecorelli e c'è anche conservato, ci sono i corpi di reato, fra i corpi di reato conservati c'è anche il memoriale Moro, quello originale, quello vero, quello sequestrato nella seconda a Milano in via Montenevosso. Di Moro, appunto, io rimarrei su questo argomento per dare la parola Stefania, perché lei appunto da massima esperta... No, no, no. E' come no. Grazie, grazie davvero di queste parole Davide. Buonasera, io vorrei spiegare perché è importante parlare della P2 e cercare di capire cosa c'entri la P2 con il caso Moro e vorrei farvi venire alla voglia di leggere questo libro di Giuliano Turone, che è un libro scritto con un intento divulgativo e guardate non è così scontato, c'è un apparato di note, uno stile che guarda anche molto ai giovani che spesso non sanno cosa sia la P2 e mi sembra un proposito assolutamente incomiabile e importante. Perché? Perché c'era bisogno dopo 40 anni di scrivere un libro sulla P2? Assolutamente sì. Perché nel nostro immaginario collettivo, per chi la conosce, forse è un'associazione di truffatori, un'accolita di malversatori, insomma un'associazione che ha fatto qualcosa di male, che indubbiamente è bene che sia stata sgominata, noi dobbiamo molto a Giuliano Turone che ha scoperto gli elenchi di Castiglion-Fibbocchi, però guardate che non è solamente questo, è qualcosa di molto molto più complicato e questo libro ha il merito di spiegarlo. Che cos'è? Cosa significa che è più complicato? Significa che la loggia guidata da Licio Gelli negli anni 70 ha rappresentato il potere occulto nel nostro paese. L'Italia è il paese dei poteri occulti. Perché? Perché ci sono tanti perché, ma fondamentalmente il nostro peccato originale nasce dall'immediato dopoguerra, nasce dal patto costituzionale che è stato un patto antifascista, ma che però non è stato tradotto nella realtà come tale, perché nella realtà la Repubblica ha portato dietro di sé, nei gangli delle istituzioni, tutto il vecchio apparato invece della Repubblica fascista. Questo è una questione per niente astratta perché si parla di uomini, di reti, di culture, di modi di fare. La democrazia cristiana si è posta questo problema alle origini della nostra Repubblica, cioè il partito dominante. Non lo ha risolto. Una parte della DC, la parte più reazionaria avrebbe voluto accogliere tutto quel passato, la parte de' Gasperiana ha detto no, perché altrimenti lasciamo l'eredità dell'antifascismo solo alle sinistre. Insomma, non lo ha risolto. All'interno del blocco dominante è esistita uno spazio enorme di contraddizioni, di tensioni, di conflitti all'interno dei quali i poteri occulti, indiretti, invisibili, che hanno dei nomi, dei cognomi, quindi non è niente di misterioso. Talvolta hanno la faccia dei terroristi di ordine nuovo, quindi delle bande neofasciste, altre volte della criminalità organizzata. Sicuramente hanno la faccia dei servizi segreti che nella prima parte hanno in realtà avuto solamente il ruolo di tutelare lo stragismo e i responsabili dello stragismo. Quindi quando si parla di poteri occulti si parla di qualcosa che in parte noi abbiamo già ampiamente ricostruito grazie al lavoro anche di molte inchieste, le quali spesso non sono potute arrivare a definire un colpevole. Lo diceva Fausto Cardella ed è estremamente importante questo concetto, anche laddove non c'è una responsabilità penale, perché il giudice è chiamato a fare questo, tuttavia quelle inchieste ci consegnano un patrimonio che sta a noi collettività di assumere. Ecco, il patrimonio che possiamo rielaborare oggi, che il libro di Turone ci consente di fare, riguarda indubbiamente anche la P2, che appunto negli anni 70, quando il nostro paese era attraversato da tensioni fortissime, da una dialettica sociale e politica che stava per cambiare in qualche modo anche l'assetto costituzionale del nostro paese, ecco è in quel momento che in particolare nel 1971, ci spiega il gran maestro Lino Salvini, viene riattivata la loggia P2 con un compito preciso, cioè quello di tutelare con un potere di riservatezza e di segreto maggiore gli uomini delle istituzioni. Quindi la loggia P2 è una stanza del potere occulto che riorganizza e orienta i poteri in un momento cruciale della nostra vita repubblicana, cioè appunto gli anni 70 ed è a metà degli anni 70 che questo percorso che viene attraversato e che ancora adesso abbiamo un'eredità di conquiste, di lotte sociali enormi che noi dobbiamo a quel forte e intenso movimento che nella società ha saputo esprimersi, è a metà degli anni 70 che avviene qualcosa che sta per cambiare, dirottare, deviare la storia del nostro paese. L'incontro tra Aldo Moro e Enrico Berlinguer, i quali capiscono che è necessario fare incontrare e accreditare l'un l'altra la borghesia con le classi lavoratrici e ridisegnare quindi l'assetto del paese. È un tentativo di modernizzazione che fallisce perché all'interno dell'establishment internazionale, nazionale, questo tentativo viene completamente bloccato. Che cosa fanno i servizi segreti in quel momento? Lasciano che il caso Moro vada avanti, bloccano totalmente le investigazioni, non succede nulla. Il paese è completamente immobilizzato. Cossiga chiede e ottiene dalla magistratura che qualsiasi decisione, qualsiasi atto, qualsiasi informazione venga consegnata al Viminale. È una sospensione delle garanzie democratiche, è qualcosa di incredibile ed è quello che avviene durante i 55 giorni del caso Moro. Cosa c'entra l'AP2? C'entra perché l'AP2, mentre matura il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro, l'AP2 si espande e si siede nei maggiori posti di responsabilità dei servizi segreti e delle forze di sicurezza. Quindi di fatto tutto ciò che avviene in quei 55 giorni avviene sotto la responsabilità e la guida precisa di Licio Gelli che siede nel comitato Pecorelli, lo chiamava dei grandi cervelli con quelle espressioni geniali che aveva chi guardava dal di dentro delle vicende ed è un comitato all'interno del quale siede Cossiga, il ministro degli interni, il criminologo mandato da Kissinger dall'amministrazione americana Steve Pitsnick e qualche altro piduista. È all'interno di questo comitato, appunto il comitato dei grandi cervelli, che si decide la strategia. La strategia è la seguente, fare in modo di far credere che Moro sia pazzo e che tutto ciò che scrive dalla prigione Moro comincia a intavolare delle trattative per la sua liberazione, ma tutto ciò che lui scrive viene incanalato dentro un flusso di informazione che lo dà per non responsabile di ciò che fa. E viene il comitato, riesce ad ottenere un enorme obiettivo che è quello di far deragliare completamente il gruppo brigatista che ha in mano l'ostaggio, che non ha più un interlocutore. In quei 55 giorni si aprono una infinità di trattative, ma tutte queste trattative, alcune di altissimo livello. Entra in campo Fidel Castro, il maresciallo Tito, Arafat, l'ONU, Amnesty International, il Papa che raccoglie soldi, ma tutto non si capisce in che punto, perché noi possiamo ricostruire molto di queste trattative, ma a un certo punto c'è qualcosa che le fa deragliare, tanto che poi il gruppo che ha in mano l'ostaggio non ha più nessun riferimento. Ce lo spiegherà poi il criminologo Pizzi, che dirà, ma io sono venuto perché non era necessario salvare Moro, era necessario impedire che il Paese crollasse nel compromesso storico. Questo è l'obiettivo che il comitato riesce a ottenere. E il gruppo brigatista, che è in mano un ostaggio che non capisce, di cui non riesce a capire il linguaggio e anche l'azione politica, perché il caso Moro va visto naturalmente solo e soltanto nell'ottica dell'azione politica che Moro sta facendo. Il gruppo brigatista fa esattamente ciò che non deve fare l'esercito rivoluzionario che ha in mano un ostaggio che il nemico non rivuole, non glielo ridà. Ed è in quel momento che perde la propria battaglia e la propria battaglia la vince quel gruppo di potere che è riuscito a occupare le stanze principali e a fare in modo che le dinamiche politiche e sociali collettive, quindi si parla di tutti noi, deviassero il percorso dell'Italia. Questa è la potenza della P2 espressa in quegli anni. Guardate che della P2 non sappiamo ancora tantissime cose. Il metodo massonico resta qualcosa di estremamente dilagante oggi. Non sappiamo ancora chi c'era ai vertici della P2. Non sappiamo ancora molto, perché Licio Gelli è un uomo che è stato protagonista di un'altra stagione della nostra vita fondamentale, cioè quel biennio che inizia nel 1990 con la caduta del muro di Berlino che porterà alla liquidazione della Prima Repubblica e alla nascita di una fantomatica Seconda Repubblica, ma soprattutto alla nascita di un partito che dal niente ne assumerà il ruolo guida senza diventare il partito, senza diventare blocco dominante. Ma è in quei due, tre anni che a suoni bombe e grazie al lavoro che fa anche Licio Gelli insieme ai gruppi fascisti con cui si era già incontrato durante gli anni 70, perché li finanzia e sono i gruppi che mettono le bombe sui treni, che fanno le stragi, ancora in quel periodo noi lo incontriamo che è protagonista della nostra vita. Quindi parlare oggi di P2 è qualcosa che ci parla enormemente del nostro paese e ha fatto bene Giuliano Turone a regalarci questo libro che vi assicuro, è un libro che si legge molto bene, che ci parla non della nostra storia ma ci parla davvero del paese che noi abbiamo oggi. Grazie. Sì, in effetti sarebbe un libro che dovrebbe entrare in ogni scuola proprio italiana, almeno i licei dovrebbero adottarlo come libro di testo, perché poi scrivere libri sono capaci tutti, lo dicevo prima, Giuliano Turone è qui in veste di autore, ma in realtà dovremmo ricordare che lui è giudice merito della Corte di Cassazione, è stato uno dei maggiori, forse uno tra i primi a indagare le dinamiche reali della mafia in Italia, prima ancora, credo tra i fondatori nel nucleo della direzione, credo sei stato uno dei primi anche della direzione antimafia in Italia, cioè uno dei primi che ha indagato la realtà mafiosa italiana a Milano, ti eri occupato della mafia di... come si chiama? L'anonima sequestro di Luciano Liggio, della P2, della quale abbiamo detto e parlato, lui si è occupato di Michele Sindona, cioè diciamo non è solo un autore, è una persona che ha messo 30 anni del proprio mestiere, del proprio lavoro e in questo testo in qualche modo la riassume, in questo testo mette a disposizione di tutti, quindi a chi vuole leggere il libro, quella che è stata la sua esperienza personale, che non è stata appunto un'esperienza da poco, quindi io però vorrei far parlare lui a questo punto, partendo appunto da quello che diceva Stefania, cioè dall'utilità di raccontare questi 40 anni e qual è stata, io ve l'ho fatta una domanda personale un po', però qual è stata la difficoltà di scrivere questo libro? Se c'è stata. Beh, dunque, il libro io avevo intenzione di scriverlo già da tempo, poi ovviamente è arrivato il momento giusto, ci ho messo tre anni di lavoro a tempo pieno, mia moglie non ne poteva più dopo tre anni di questo, però l'idea era proprio quella di tracciare sulla base di una lettura di una enorme quantità di carte giudiziarie, di ricostruire il più possibile documentatamente un triennio particolarissimo del nostro secondo novecento. Il triennio, in copertina è chiamato triennio maledetto che va dal 78 all'80. Questo triennio è il periodo di massima potenza del sistema di potere occulto P2. Adesso poi cercherò brevemente di chiarire il più possibile. E infatti questo triennio contiene una serie agghiacciante di fatti tremendi, perché si parte appunto dal sequestro e poi dall'omicidio di Aldo Moro e nel libro si ricostruisce il più possibile la dinamica di questa operazione che è gestita sì dalle Brigate Rosse, ma grazie all'intervento di quel comitato dei grandi cervelli di cui parlava Stefania e di quel personaggio particolarissimo che era quello Steve Piecenico, Pissnik, a seconda di come si vuole pronunciare questo nome. Questo Piecenico, Pissnik, è arrivato dagli Stati Uniti perché era uomo dell'establishment di Kissinger e di Nixon. E lui, e l'ha spiegato poi perché l'ha addirittura scritto in un libro fatto con un giornalista francese, lui ha spiegato come sia venuto qui non tanto per salvare Aldo Moro ma per salvare l'establishment politico e per salvare l'establishment politico alla fine, d'accordo anche con Cossiga e con quel comitato di saggi che Cossiga aveva creato durante 55 giorni, lo scopo finale era proprio quello di pilotare i brigatisti verso l'uccisione di Aldo Moro. Questa cosa è molto agghiacciante ma è assolutamente documentata ed è documentata in particolare nell'ultimo capitolo di questo libro. Ma il triennio parte appunto dal caso Moro, arriva fino alla strage di Bologna, 85 morti, veramente un fatto agghiacciante. E all'interno tra caso Moro e strage di Bologna c'è tutta una serie di grandi crimini che caratterizzano questo triennio e appunto si passa dall'omicidio Pecorelli all'omicidio di Pier Santi Mattarella, l'omicidio di Giorgio Ambrosoli, tutte le vicende di Sindona e qui appunto fra l'altro è proprio attraverso una delle inchieste di queste vicende che si arriva a scoprire le carte della P2 e i famosi elenchi della loggia massonica ed è proprio la vicenda di Sindona. Michele Sindona faceva parte di quella compagine di finanza d'avventura insieme a Roberto Calvi, insieme all'alter ego di Gelli finanziaria, di finanziario, l'alter ego finanziario era Ortolani, in combutta con la finanza vaticana, perché questo è molto importante, qui è venuto fuori che i cascami dello Stato pontificio, perché io ho scritto anche che le caratteristiche fondamentali che rendono l'Italia diversa da qualsiasi altro paese dell'Europa occidentale sono tre, prima di tutto le mafie storiche che abbiamo soltanto noi in tutta l'Europa occidentale, che sono nate secoli fa perché le potenze straniere che dominavano Calabria e Sicilia avevano le capitali troppo lontane e quindi non riuscivano a controllare quei territori, allora sono nati questi gruppi di potere di fatto basati su violenza, sopraffazione, intimidazione, che si sono trasformate nelle mafie storiche, si sono talmente radicate nel territorio che non ci siamo ancora riusciti a farcene, a liberarcene. La seconda caratteristica è proprio il fatto di aver avuto mille anni di paparello, Stato pontificio, e questo ha fatto sì che la trasformazione da sudditi a cittadini è tardata molto, non solo, ma sono rimasti poi questi cascami di cui io parlavo che sono in particolare emersi proprio che la finanza vaticana è stata negli anni di Marcinkus, Marcinkus dirigeva la banca vaticana, sono stati strettamente in rapporto con le mafie, in particolare con Cosa Nostra, la finanza d'avventura italiana, Sindona e Calvi, e con questo sistema di potere occulto, P2, che aveva il suo grande custode, grande notaio in questa persona di Licio Gelli. Dopodiché l'ultima caratteristica è proprio il fatto di avere avuto in Italia sulla linea di Yalta, quando i vincitori della seconda guerra mondiale si sono divisi il pianeta, noi Italia eravamo sulla linea di Yalta, Churchill e Roosevelt da una parte, Stalin dall'altra, che erano le potenze vincitrici, erano alleati quando hanno sconfitto il nazismo, però non erano affatto amici Stalin e Roosevelt, lo sappiamo, si sono divisi il mondo e siccome l'Italia era sulla linea di Yalta e aveva il più forte partito comunista del mondo occidentale, in assoluto il più forte di tutto il mondo occidentale, e negli anni 50 e negli anni 60 guardavano con simpatia verso Mosca, ecco che si è creato un imbizzarrimento totale, la storia del paese è impazzita ed è nata la strategia della tensione appunto per tenere quel partito comunista lontano dal potere, cosa che è continuata anche quando ormai il partito comunista in realtà non guardava affatto più a Mosca e avevamo quell'accordo intervenuto fra Aldo Moro e Enrico Berlinguer per rinnovare in qualche modo la politica italiana e qui si è fatto di tutto per evitare questa cosa e si è portati all'uccisione di Aldo Moro. e qui la P2 c'entra perché quando durante i famosi 55 giorni le indagini sono state fatte praticamente non sono state fatte, poi siccome l'Italia è un paese ricchissimo di contraddizioni è successo che nell'agosto del 78 si è affidato al generale Carlo Alberto dalla Chiesa il compito di dirigere un manipolo di carabinieri per svolgere seriamente le indagini sul caso Moro. Questa è stata una contraddizione perché in definitiva il Carlo Alberto dalla Chiesa che negli anni 76-77 era stato completamente emarginato dalla fascia di arma dei carabinieri che era compromessa pesantemente col sistema P2 è stato a un certo punto riabilitato diciamo così perché quando Moro è morto il ministro dell'interno Cossiga ha cessato di essere il ministro degli interni. Rognoni ha creato il nucleo della Chiesa, il nucleo della Chiesa ha trovato il covo di Monte Nevoso a Milano e la divisione Pastrengo che poi si saprà dopo questo nel 78 non lo sapevamo ma la divisione Pastrengo infiltrata pesantemente di affiliati alla P2 e di altissimo livello militare hanno messo il bastone fra le ruote a Carlo Alberto dalla Chiesa e ai suoi uomini impedendogli praticamente di pari il loro lavoro fino in fondo. Loro hanno dovuto scappare dopo cinque giorni mentre invece la perquisizione avrebbe dovuto durare almeno tre settimane perché i comandi erano generali di divisione, generali di corpo d'armata il generale Palumbo in particolare, generali di corpo d'armata una volta che si è messo a fare la guerra a Carlo Alberto dalla Chiesa e ai suoi uomini Carlo Alberto dalla Chiesa era generale di brigata il generale di corpo d'armata della P2 se voleva farle affettine ci riusciva in un baleno e infatti cosa è fatto? Dalla Chiesa ha dato ordine ai suoi uomini prendete tutto quello che avete trovato anche se sono passati solo cinque giorni portate tutto via nella nostra base perché sennò qui questi ci impediscono di lavorare purtroppo penso che il tempo sia scaduto per cui non posso più andare avanti che questo era semplicemente il riassunto della prima parte proprio del libro un decimo di quello che c'è è interessantissimo anche perché è scritto molto bene in maniera chiara quindi davvero se vi interessa l'argomento prendetelo perché questo è uno dei libri fondamentali su questa parte di storia contemporanea italiana sono usciti un credo 60-70 io ne ho letti parecchi per colpa o per follia non lo so però questo è davvero puntuale, è scritto molto bene non c'è nessuna sbavatura rispetto a quello che è poi stata la realtà o quello che potrebbe essere stata sono solo atti giudiziari e come scrive nella nota iniziale che ho trovato molto utile e interessante Turone dice e come ha ricordato anche Fausto all'inizio i processi e quindi le condanne o le assoluzioni servono ad accertare se effettivamente l'imputato si riesce a dimostrare che ha le responsabilità che gli vengono imputate poi le carte giudiziarie possono essere lettere a prescindere dai processi perché possono essere collegate anche altre carte e altri atti quindi è molto interessante per questo i più giovani si lamentano che stiamo andando lunghi quindi ringrazio tutti per essere venuti e soprattutto Turone e Fausto Cazzo